8.000! Ti va a te! Ti va a te! 8.000! No, io me lo raccolgo troppo, eh. 8.000! Ti va a te! A te! E' più! Ehi, ciao a tutti ragazzi, quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo nuovamente qui sulla Pixelmon, assieme a NICCHE! E ciao NICCHE! Ciao Pepuccio! Ciao NICCHE! Che cosa vuoi fare oggi? Eh, ecco, intanto mi ti sto guardando dall'interno. Sei bellissimo! Vedo che sei fatto di cioccolata! Allora, siamo rimasti qua, eh, tutti e due eravamo rimasti qua. Esatto. Siamo dati appuntamento, quindi che cosa hai in programma oggi, Pepo? Ma che programma? Sinceramente fa l'ordione del tetto che mi rompe. Io so strapieno di roba e sinceramente, ecco, volevo un attimino buttare qualcosa qui in questo buco che doveva essere il cesso pubblico, ma... Allora, su, butta tutto. Allora, no, io informo che tipo sono le... le... Le chicchiore, insomma, è tardissimo, raga, perciò se non urlo in questo video è perché tipo si sono lamentati tantissimo i vicini. I nostri simpatissimi vicini. Urlo troppo, urlo troppo mi hanno detto, cioè, raga, ma vi rendete conto a me che i vicini vengono a dire che urlo troppo? No, guardate. No, è impossibile. Lui che è silenzioso come un... Secondo me si stagliano le robe? Cioè... Cioè, i vicini pazzi. Cioè, un treno... Un treno fa... voglio dire, fa più rumore, no? Ok. Parliamo. Lascia di legno, la butto. Vabbè, comunque... Lascia anche io, sì. Io butto le cose e tu fai sporcizia. Vabbè, la legna fa sempre comodo. Ah, di qua non ci siamo andati, ma ci stanno staccionate in giro, che è? No, vabbè, perché questa qua ti per la miniera è abbandonata, c'è capito? No, necchia! Sì, 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 ho capito, ho sc... Ti ho attento! Si, spacco, raccolgo un po' di carbone, e magari trovo dei diamanti, ah, ho trovato del ferro. Sì, vabbè, pure trovi dei diamanti, no, vabbè, me lo dici prima, cioè, io me ne vado, eh. Aspetta, ma che c'è in questa cesta? L'ho aperta, ah, l'ho aperta nell'episodio scorso, ok, non c'è un cacchio, ok. Allora, ma io faccio così. Se vuoi te la riempio così, ti faccio contento. Beh, beh, sarebbe una cosa molto carina, però non credo sia... Beh, se me la riempiti diamanti, a me lo dispiace. Tu hai intenzione di restare ancora qui a cercare? Qua sotto? Allora, eh... Quando abbiamo scollegato oggi, ho scollegato pure io, quindi mi sa che... Ah, sai che cosa mi hanno detto nei commenti? No, cosa ti hanno detto? Nell'episodio scorso dovevamo fare la flint, ti ricordi? Ma tu ce l'hai caricato il video che abbiamo fatto insieme? Sì, vabbè, ti pare? L'abbiamo registrato oggi, cioè... Eh, siccome tu mi hai detto la gente... No, 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 nei commenti, però, no, me l'ho detto nei commenti, però, del video scorso. Eh, guarda qua, vieni qua, vieni qua, segui il nico, guarda la mappa. Necchè, vieni qui. Eh, ho trovato del ferro, spero. Mamma mia, mamma mia, un lavoratore. Aspetta, dove sei? Dove sei? Ma dove cavolo sei andato? Non ti vedo più. Guarda la minima qua. Guarda la minima qua. Eh, eh, ah, sei sceso giù dalle scale, no? No, 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 sono dove c'era la fornace, tornando indietro, semplicemente là. Signor Nick! Eh, guarda lo che non sta attento. Signor Nick, eh. Mi sto perdendo, metto. Ok, aspetta. Ah, sì, 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 sì. No, la marble, ma io c'ho la marble, che è inutile la marble. Aspetta, se faccio così. Mamma donna, sì, ok, mi hai tappato il buco, bene. Aspetta, no, sì, vabbè, ti ho tappato il buco, lo so che non si dovrebbe fare. Non quel, non quei buchi, no. Signor Nick, facci così, signor Nick. Ah, ma, eh, non c'ho l'aceto, l'ho buttata. Allora, guarda qua. Dunque, mi hai fatto fare il giro, e alla fine io che ho trovato il ferro, me l'hai fatto lasciare là. Eh, eh, ma, sì, signor Nick, guarda qua. Che, che, cosa? Che, ti stai andando? No, 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 guarda, guarda. Hai fatto la piscina, cos'è? Sta cosa è una piscina. No, guarda qua. Guarda, aspetta, scendo un attimo. Eh, io... Guarda qua. Allora, Nick, se sei bravo, devi essere bravissimo a fare una cosa. Allora. Ah, io mi sono rotto le ossa. Guarda qua, la prendi una torcia? Cioè, tu lo sai che la gravel soffre di gravità, vero? Guarda qua. Ovvio. Ok. E allora? Non va, non va. Doveva cadere tutta la gravel. Perché non cade? Eh, ma se ci hai messo la torcia, perché deve cadere? Ah, vedi che qui è caduta? Aspetta, no, no, aspetta un attimo. Ma cos'è un trucco per baccare subito gravel? Eh, guarda qua. Cioè, ma te l'arriva indietro? Eh, volevo dire, flint non ce n'è. Eh, no, appunto. Ok, perfetto, ci hanno trollato brutalmente. Ma io dove l'ho la flint io qua? Oddio, non ce l'ho... Ah, sì, l'ho venduta nello scorso video, ma sono un cretino. Va bene, perfetto, sta roba non funziona. Ci hanno inculato tantissimo. Eh, già, sì, sì, no, vabbè. Abbiamo perso giusto qualche secondo per provare quello che i nostri simpaticissimi ci consigliano. Fanzo ci consigliano. Allora, sì, ok, ora io che avevo trovato... Io che avevo trovato quel bellissimo ferro, ma l'hai fatto lasciare in giro, non si sa neanche più dove. No, dai, valla a prendere, valla a prendere. Ma c'è in giro di che dove è il ferro? Eh, valla a prendere il... Perché è un cane, un quinzaio mi serve. Non ho capito, valla a prendere. Aspetta, oddio, mamma mia. Ah, sì, mamma mia. Ah, l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, guarda dov'è. Allora, io invece voglio trovare tanti diamanti, perché a me i diamanti mi servono, ma le dicciole di diamanti. Dove sono i diamanti di diamanti? Eh, eh, cos'è? C'è in mente una nuova casa? Eh, tante case. Perché è nuova la prima? Però di qua non ci siamo andati, eh? No, no, qua c'è il ferro, vedi? Aspetta, aspetta. Eh, guarda quanto ferro, ma diventa un picciccio. Eh, la peppina, sì, vabbè, tu trovi ferro. Io non trovo un cazzo qua, eh. Sarà, non lo so, non ho letto se ferro. Bene, ho 6 di ferro, 3 di oro. Aspetta che io non vedo un piffero, ora ci vedo. Ma la canna da pesca con cosa si fa? La canna da pesca, col filo. Eh, ne ho uno, ne serve più di uno. Eh, sì, ne servirebbero due e tre stick. Ma io non so neanche se è craftabile, sincero. Ma aspetta, scusa, basta fare qua. Beh, sì, è vaniglia e vaniglia. No, ok, aspetta. Eh, canna, cannone, no, canna. Come si chiama canna da pesca in inglese? A me se io metto fish. Ecco, l'ho trovata. Ecco, fishing rod. Ah, sì, 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 è craftabile. È craftabile. Sì, è craftabile. Beh, sì, sì, si potrebbe... Vabbè, comunque, una volta che abbiamo il pane... Ma stacca da dove cade? Eh, beh, veramente, qui c'è più acqua che pane, quindi... Ma io sono in farra e non vedo un cazzo. Perché non vedo un cazzo? Sono in farra. Che trovate? Oro, oro a volontà. Sì, vabbè, vabbè, sculato. Pure l'oro trova. Ancora oro c'è, wow. Vedo qualcuno a parlare qua sotto, mi pro. Che io butto la roba nei buchi. Ma tu, quant'acqua! Troppa acqua! Eh, 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 la bevi, la bevo, che ti devo dire? Ma troppa acqua, seriamente? Aspetta, 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 aspetta. Che cosa sta roba? Questa è, tra l'altro, tappo un po' di buchi perché non si può camminare qua. No, io sto mettendo un pochettino di acqua perché seriamente io qua... Cioè, parliamo, né? Oh, ma tu! Ok, si leva l'acqua o finalmente? Ok. Allora. Tutta sta acqua cade, aspetta che chiudo le sorgenti. No, cignonnicchia! Eh, ce sto provando pure io, ma non è semplice. No, non è per niente semplice. Che poi tutte queste sorgenti sono tipo... Guarda la che alta! Allora. Mi servono un po', sì, mi devo fare... Cosa? Cosa, che devi fare? Eh, no, no, mi devo solo fare un po' di stick perché non ho più le torce. Eh, ma qua sotto, qua sotto c'è un... c'è un Pokémon, eh? Mi sa perché lo sento. C'è un po'... Ah, ma sì, mi sa che tipo sono i Pokémon che spawnano così alla cazzo di culo. Ma speriamo che non è aggressivo. Ah, ma c'è il Pokémon morto, tu mi sa, vero? Ah, beh, finché col Pokémon che se la prende non me ne frega niente. No, 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 se... Con me che se la prende. Non dovrebbe, almeno. Si spera, non se la prende. Madonna, quanto carbone! Guarda, quanto carbone! Eh, raccoglirò tanto, minchia, te lo vendi tutto e ti fai meglio soldi col carbone. Il carbone tipo vale tantissimo. Allora... Redstone! Minchia questa è molto utile, però io qui ho paura di sta lava, sinceramente parlando, eh. Cioè, non è che mi piace tanto... Oh, dai, la lava si vede. Vabbè, lo so che la lava si vede, cioè, però dico, ci cadi anche dentro, sai come te ne accorgi? Cioè, perdi tutti i soldi che hai fatto, tipo, in tre video. Quello sì, quello sì. Non è una cosa bella. E te lo dice uno che è già morto nel primo episodio. Eh, no, ci immagino, guarda. Oddio, che hai raccolto tutto? No, aspetta, no, 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 io devo chiudere sta lava, ne va della mia vita. Cos'è? C'è qualcosa qua sopra. Chiuso, vai. Dove sei, dove sei? Dove sei? Dove sei? C'è qualcosa qua sopra. C'è qualcosa... Sbattuto la testa. Mi spieghi che cazzo ci fai là sotto? Eh, madonna, se tu mi hai fatto cagare sopra. Adio, non mi fai ridere. Che vicini si lamentano. Ti faccio piangere, Beppo. Eh, la lava è sparita qua, come mai? Eh, lo hai? Indovina chi l'ha levata? Eh, no, faceva luce. Eh sì ma ci morevi anche E beh scusa se tu non ti ci butti No no Allora comunque dai dai È pericolosa la la vanicchia dai Ma no è bellissima È divertente ma questo qua c'è un ponte Sicuramente ci deve essere qualcosa Alla subito io ci vado Ma io questo è che ti dico come faccio Tipo un pochettino di torce Il torce ce l'ho qui Il problema è il cipo Ok Ma dovremmo trovare l'alluminio Veramente dobbiamo trovare il cibo anche Perché se moriamo perdiamo tutto Oh se moriamo Mi hanno anche consigliato che Se stai per morire fatti una cesta Eh quella è poco ma sicuro Eh io sono stupido e non l'ho fatto Ho aspettato di morire e ho perso la roba Eh no Eh io sì io sono Io sono sua intelligenza mi chiamavano Che cazzo ci fai la sua Ecco guarda 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 cioè lui se ne va là sopra Perché è Cattivo Dove sei? Eh ma io ho trovato il ferro Scusa Come minimo c'ho uno stack di ferro Dove sei? Oh io invece ho trovato una cesta Pane Un piccone di ferro No cibo Cibo Ok io ho trovato una cesta Con dentro un piccone di ferro Basta Basta sono felicissimo Eh mi dizù Solo un piccone Niente cibo? Eh ho trovato dei panini Buono dai Mangia 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 Eh dammene Dammene uno Grazie Thank you Oh addirittura così tanti ne hai? Oh sì Ma sono quelli che ho rubato Ah ok Allora non voglio sapere da dove No mamma mia sono bello raffreddato Epo che fa No Peppo fa sempre finita Poi butta solo scorreggio Veramente mi sto soffiando il naso Eh beh ma Ah io soffiando No no sai pensavo ti stavi soffiando un'altra cosa Ma va bene lo stesso Sono tefero Comunque comunque Peppo ho trovato un'altra galleria C'è No bellissimo ma cos'è? Qui ci facciamo Qui ci facciamo i minerali Oddio che cazzo è troppo Eh sì ora ho un po' le torce Ma io sono stupido C'è uno slopo fastidiosissimo Ah Dio quanto bello Ma mi stai prendendo i binari? No no Ho trovato una cesta Questa è mia Vai 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 Grandissima Oh lingotti Sei lingotti di ferro Bene Madonna fantastico Ma io ho messo il ferro a cuocere Avevo messo io eh Ah l'hai lasciato là Eh sì bravissimo Dobbiamo tornare indietro poi Con la fornace Vabbè sì 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 Ah però cavolo qua ce n'è di roba E' un peccato andarsene Finchè abbiamo cibo sufficienza Vai ti lascio raccogliertelo a te dai No vabbè a posto a posto a posto Allora Ti collabora Facciamo finta di 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 peccarci la roba però Eh sì Oh ma tanto carbone che c'è sta Il carbone è utile Il carbone è utilissimo Ho trovato una stanza segreta Si mi viene da dire Perché è una stanza segreta? C'è scritto a non entrare? No perché ho buttato giù un muro e ho trovato un'altra stanza diciamo Io sento ragni C'è uno spawner vicino e non è una bella roba E invece sì che è una bella cosa Ci vuole la spada la spada Ecco io pensavo che non ce n'erano minacce Invece ci stanno Eh sì se trovi di spawner Dica Ecco i spawn sono buoni Perché ti dimentichi che i ragni danno Il filo Il filo Quindi non dobbiamo togliere lo spawn Dobbiamo approfittare per fare filo Beh sì in effetti si è utile Magari in caso tappiamo Tappo un po' e ci lasciamo lo spawn sempre lì Perché fa comodo avere i ragni Ovviamente a trovarli Ma fino a un certo punto c'è la fine Ok Ora vediamo allora dove mi devo fare assolutamente una di quel banco da lavoro Ah c'ho una cesta Ok ho chiuso l'acqua fantasia Ok Allora aspetta la cesta la metto qua Ho sentito pure il Carrello Sì sì no allora Tolgo qualcosa che La sabbia la tolgo Ma che me ne fa Sì la potrei vendere Ma meglio che raccolgo cose che ha più valore della sabbia Ovviamente C'è l'inchia Ti vedi il ferro ti fai meglio Eh eh sì Dai 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 La togliamo pure Ma anche l'apricor Non lascio qua tanto fuori Ne trovo quanti ne voglio Uh ma quante ne hai di apricor? La ciotola Ah qui Con me solo uno Perché poi li ho lasciati Ma che color era? Questo è Viola Rosa È raro? L'apricor Pink Ah rosa sì Rosa Rosa Ma che è raro Lo tengo Lo bambino Ah po' sì ma la pio io che ne ho sette io dai Allora Vabbè È giusto per liberarmi un altro inventario dalle cose superflue Sì sì Il grano me lo tengo non si sa mai Che sì quattro cose superflue me le do Me lo so tutto Ah allora Ecco mi devo fare la spada ecco cosa mi serve La spada sì la spada serve Serve sì eh si si l'ho lasciata a casa perchè a casa nel senso dove c'è il rifugio perchè pensavo che non ce n'erano mostri eh infatti non ce ne dovrebbero essere però dico però siccome questo è uno spawn eh no ahimè ecco lo spawner si trovano e lo spawner non lo puoi disabilitare cioè non lo so se si può disabilitare ma penso se c'è boh che cazzo ne so no ma è utile no no ma è utile perchè non è che ne trovi tanti quindi è comunque una cosa eh ma cos'è sta roba noto quanta roba non serve di tutto se vedi prende il carbone non ce l'ho però ho trovato aspetta ho trovato credo voglio urlare lì ho trovato del fossile io voglio urlare che trova per l'orlo piano perchè perchè se lo vede amante perchè se l'orlo forte i vicini si si che in casa mi si si è sanno quindi per farlo oro 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 allora c'è trovato bevo dimmelo allora ok 8000 diamante diamante 8000 no io me lo raccolgo troppo eh ho trovato il diamantissimo io ho capito niente comunque se qualcuno ha capito qualcosa me lo faccio sapere ho trovato il diamante ah sono contento quanto voglio urlare voglio urlare io invece io invece ho trovato dei del fossile non so se serve ma chi sono due diamanti ma chi sono due eh si diamanti sono buone eh si ma solo due comunque comunque sono preoccupato oddio credo che ho trovato lo spawn no eh non morire eh oh figurati oh mio dio rognetto aiuto rognetto oddio no non si mette bene non si mette bene perché è un rognetto di merda ma sono quelli velenosi piccoli oh eh sono quelli bastardi velenosi ciao nicchia mi stavi simpatico nicchia ciao nicchia attenzione nicchia sulla fascia che sta per morire si nicchia sulla fascia che se ne va ok io ero te piccola devo assolutamente mangiare il pane vado 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 ma dove cazzo sei non c'ho una cosa da mangiare che consumasse meno aspetta vai faccio io faccio io vai vado io vado io che sono carabinato ok dai 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 io sono io sono adesso vado dai vedi qua vieni aspetta vieni 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 attento è qua sopra a destra è qua sopra a destra eh devo recuperare no ma tu col piccola ma ti ammazza hai sentito chi è sui vado 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 picchialo tantissimo eh se lo becco eh se lo becco pure io eh vai ce lo fai a prenderlo eh sì ora l'ho preso 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 no cazzo peccato che questo allora con la spada leva le ragnatele vuoi rompere lo spawn attento 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 eh no sto per morire sto per morire cavolo mezzo cuore non ti uccide il veleno cavolo mezzo cuore Allontanati, allontanati, allontanati Ok, mi ha avvelenato pure a me Allontanati, allontanati, allontanati Ok, allontaniamoci Devo allontanare pure te Sì, vieni, scappiamo, 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 scappiamo Vieni, Nicchè Nicchè Aspetta, aspetta, no, no Non mi avvicino allo spawn mentre c'ho vita Aspetta, non morire, Nicchè Aspetta No, no, non sto morendo No, ma ne torno indietro di qua che c'è qualcosa Ah, ho trovato una cesta Cazzarola, cazzarola Eh, io lo voglio abbattere quello spawner però, eh Eh, no, perché, scusa Abbiamo preso comunque L'importante è che abbiamo preso Ah, no, dai, abbiamo preso comunque il filo Io ne ho tre Tu quante ne hai? Se ne hai tu uno Te ne do uno io a te Allora, aspetta, ma io non E così ci faccio Ah, ho trovato Ma guarda, dai, che rompento Se rompi la ragnatella ti dai il filo Sì, sì, lo so E allora è inutile prendersela con lo spawn Eh, no, lo so che è inutile Eh, allora c'è anche lo spawner Eh, no, sì, ma devi rompere il filo No, 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 che magari ci sono ceste Vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua Io non lo voglio lasciare qui su spawner Quindi, quindi Eh, no, devo mangiarmi un'altra bagnotta E vieni qua, vieni qua, vieni qua Ma devi recuperare vita Sì, sì E porta il solto Oh, Dio, ce l'ho con me Eh, questo qua ce l'ho con me Oh, shit Guarda, guarda come vuoi Guarda come vuoi No, Pepo, non mi lasciare Non lasciarmi solo Ho mezzo cuore no è troppo è pericolosissimo senza armatura è pericolosissimo e tu pensai che io c'ho il metto e l'armatura si fa sentire la difficoltà andiamocene eh si è hard prima che arriva me gli alloggia no io non lo posso rompere no addio pepo no